Parte il tour dell'Asla Salerno attraverso i centri della provincia. Fai la prima mossa con le fermate della salute. È questo lo slogan che accompagnerà l'edizione 2022 della campagna supporto degli screening oncologici gratuiti per colon retto, cervice uterina, mammella e melanoma, realizzata dalla regione campagna in collaborazione con l'Asla di Salerno. Il camper stazionerà con i suoi operatori dalle ore 9 alle ore 18. Il tour, che prevede 20 tappe in altrettanti i comuni del territorio provinciale, si propone di riavvicinare l'utenza e rilanciare le attività di screening dopo l'emergenza pandemica, informando e sensibilizzando la cittadinanza sulle attività in essere. Queste le fasce di popolazione interessate. Cervice uterina, pap test, coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e i 64 anni. Screening mammografico coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni. Colon retto coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e i 74 anni. Melanoma coinvolge donne e uomini di tutte le età. Quest'anno, novità assoluta, sarà possibile sottoporsi a mammografia direttamente a bordo del poliambulatorio mobile previa prenotazione telefonica. Per informazioni e prenotazioni di tutti i quattro screening rivolgersi ai seguenti numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Mammografia, è possibile contattare lo 081-92-12-227-158. Cervice uterina, per prenotare lo screening alla Cervice uterina, contattare lo 081-92-12-350-299. Per lo screening gratuito al colon retto, contattare lo 081-92-12-098-988. L'Asla Salerno invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle attività di screening sottoponendosi ai controlli previsti per il bene e la salvaguardia della propria salute. La campagna Fai la prima mossa con le fermate della salute si avvale del patrocinio del Comune di Salerno, dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno e dell'Ordine della Professione di Ostetricia della provincia di Salerno. Tutte le prenotazioni e le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.